3.000 euro per pagare un assunto E dopo non paghiamo nessun altro? Ma perchè chi vuoi pagare? Tu paghi a noi e nessuno ti vi tocca E per qualsiasi cosa, per i permessi Ci siamo qui noi Che cazzo fa? Oh, ho messo a me, da quando ho messo il coso Ho messo a me, e tu ho messo il coso Dicevo